E' un'altra parte di Milano. La transizione nell'angolo va a pescare Spanulis che vuole innescare Printesis, attacca Pozzi, sarà doppio di Borussis, buono il passaggio sul lato deboli per il layup facile di Mavridis. E' come dico così. 9 a 6 adesso il vantaggio dell'Olimpia Cos, ancora una volta Milano cerca il match up fra Borussis e Mavridis, di fisico Borussis brava l'andretto ma viene stoppato, c'è subiti 6 l'ex giocatore dell'Olimpia Cos, Printesis mette la palla nelle mani di Manzaris che attacca, chiude Borussis e Borussis accenna l'aiuto, rotazione di Papa Nicolau per Manzaris che attacca Lainford. Ottimo, l'anticipo di Borussis, sta paracora dell'Olimpia Cos che trova comunque gli obiettivi con...